Marco sentiti in colpa, e invece dobbiamo avere la capabilità di improvvisare E' un'assoccata nuova E' un'assoccata nuova E' un sacco di scontato C'entra E' un'assocata nuova E' sempre disponibile in carne Guarda il verde come verde Verde che avete fatto? Del succherificio? Verde Verde Mi attacca il microfono E' mezz'ora che ti viene a dire sì 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 Tutti i soldi qua Siccome io ho iniziato a portare via 2.000 litri Ma chi è che rubato i soldi per fare il pieno? Ho meno 81 costi di carburante Sui miei costi Ma io sto spingando Chiang? Ma perché sono miei costi? Perché il trattore è tuo salame E' bello vedere il trattore che sprofonda E ti ho visto che combinata che ho fatto Marco? Ti ho visto come si fa? Ti ho visto come si fa? Si usa il trattore dei chi altri E si va incontri Ma papà che il gasolino ha quel nome D'altrui Eh adesso bisogna che faccia qualche video Con il tacco Che sei dalla stippa Che sei da passare al ripuntatore No mai Drenatore Ho mai fatto Il video con Con il Con il trannaggio Eh si chiama Drenatore Ecco Scrivino alla tavola La gente è Arratrottalpa Se tu vuoi Stai a fare scuine Ti presto il culo a scuine Sotto 2.50 Lei è il suo amore Ah picco il culo a scuine Sotto 2.80 Cervo tutto Metti i miei giri A te Io Che terra Che vuoi A fin sui quarti Dei case Dopo te manda la fattura Vuoi un tutto No Cosa è Che dentro io Ci guarda 5.000 euro Però i sensori E anche riparazione Dei Trattori Alcuni Esatto La montagna escape Ma Tutti i sensori Iarala Come sui mezzi Ma Da quando in qua A dar la caccia Te vieni 50 sci Allora Ehm Non fare domande Ehm 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 Esatto Ehm Ehm Mi raccomando Quello che Marco registra Oh Ehm 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 Va bene Ehm 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 Per caricare la roba qua Intanto Ehm Ehm E ora Se ho fatto suonare Mentre se ti ho finito un discorso Ci appo paroi Se non ho fatto suonare Quando che si devo parlare Ci appo paroi Ehm Fatti fatti Te ho scritto Te levo Quei era il momento Che ormai Era di andare un po' De cadere Ehm Ehm Stavo andando A premere A macchare il bottone Sì Liquizio Precite Ehm Una bottiglietta d'acqua Perché stasera ti avrei tanto da parlare A Gesù Ehm Ehm Io ti fai Jerome, Gianni Giovanni Alfonso Anche Yanni Eh esatto Tutti i bianni Anche sto cazzo di Anche sto cazzo di Pfff Ok Ecco 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 Mi ha buttato solo dal letto No Mi ha buttato solo dal letto Mi ha detto aspetta un attimo E' una cosa che mi vuoi ascoltare prima di mia moglie Cfff C***o C***o T'hai sentito la registrazione T'hai sentito Marco fare C***o C***o Mi ha detto Tretti di essere Tento tanta guitae di femmina Se hai attacato il motore del parango Te senti TUM Siiii Siiii E' il motore del parango che slitta E siiii E che slitta da tutti Buona gara Animali Parli a me Pargognati E però bisogna che veniamo su Dacchè altra parte Non capisco mai come cazzo dovuto trarli Non da questa parte qua Dacchè altra Mi no 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 giustamente Sare che Sare che mi metto in fila Da che scantissi Marco Ah Come cazzo avete fatto a riempirli Cristian E' verbo Sì Ecco la chicca a vola Sparate le api Cos'ha detto Come sai che corro più forte a me Ma se puoi caricare un po' meglio sta la tua Signor Benedetto Ah a me non c'è niente Questa è fatta viene così I magrebi Ha 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 Viene uno che si è dritto Uno si questo è dritto E' dritto Ma porco Come effetto Aspetta voglio fare delle fatture adesso E' che merda E' madonna voglio fare delle fatture a molte cose Guarda il monte come si muove Oh Fermola Se si arriva subito Franz Faccia fare contenuti Certo Guardare i vostri malefatti I vostri crimini Guardate Questa è Geronio Ma per andare a vedere dove sarà banta si Mi non capisco perchè ho bisogno di una casa amica E di solito gli ero sempre qua No dove metto è il mio caso Adesso mi giro Mosterina dai Vengo portato questa roba finiamo puntato Cominciamo subito che altra I capei funzionati A posto tutti Si sente solo Lucas Episodio di compagnia Eh Ma sei che Giangi Ma Giangi non è che più Bleh Bleh Chi me? Hai lasciato il attaccatore impisato Eh adesso lo so tu Oh l'ho spento io Adesso finisce puntata la monstorina Ma che maestro che proprio darlo Sì Dove sei andato AAAAAA Non può guardare i pressi Cosa sta a seminare una cosa Ma mamma mia Cristian Ah ma mi lo chiedeva Vieni a vedere te prego I maschi Che ti sei impiantato lì in fondo AAAAAA Cosa è successo adesso? Dai chi è che si spianta? Eh E' figata Adesso è il motivo Aspetta che faccio due conti Allora 500 euro Ma perchè non mi fa fare i miei miei Segarabaga E quindi? Così devo uscire di entrare? Eh me sa Che esci in entrare la tua azienda Allora GEMO Dalla mia azienda? Provo che ne so 4500 de frague A parte che le piee Arrivo tra un minuto Si mi intanto foto con tipo Fattura de De signorina Tenetevi fuori scarica ma non ti scarica Allora 4500 per Devi anche ridarmi i permessi per adesso Più GEMO 2500 2500 De Lattuga Per 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 2000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Più 8.000 litri 8.000 litri 8.000 litri di zucchero Più Puoi dire che abbiamo un complessivo di 2200 2200 2200 Più Bene Bene Vediamo il partimento Allora Seria Così era un bancae solo? Si Vabbè Un bancae 6.000 litri Si ma Non sei 3.000 euro ogni 1.000 litri Eh si Eh Scusami Non sei 3.000 euro ogni litro Eh 3340 Per 1000 litri sei 3340 euro Esatto Vuol dire 19.500 euro Ah Tu puoi cambiare anche il nome Varo Eh Ah Questi si scaghi via fuori Giusti? Fai fatture Marco No? Per chi infia l'ultimo Cos'è ora? Io dare No? Ah Te paghi 300 euro Così? Eh Roberto È un braccino corto È stato da pagare anche ciò 95.000 euro È in debito di 15.000 No? Non fa niente È sto pezzente E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione E arrivederci TELERAGA TELERAGA